Il trasporto pubblico in Veneto non soddisfa i consumatori e il triste primato per il maggior numero di proteste spetta a Venezia, dove si lamentano ritardi soprattutto per quanto riguarda i vaporetti. La scuola va in vacanza ma gli studenti non smettono di far sentire la loro voce. Questa volta sotto accusa sono proprio i trasporti pubblici. Per mesi gli studenti di scuole superiori di tutto il Veneto hanno compilato questionari per documentare i disservizi del trasporto pubblico e oggi i dati alla mano sono pronti a chiedere confronti con provincia e regione per ottenere un miglioramento del servizio. Migliaia di ragazzi hanno segnalato malfunzionamenti di autobus e treni. Dai ritardi al sovraffollamento dei mezzi, tutto è raccolto ora in un database che non può lasciare indifferenti le aziende di trasporti. Jacopo Marchesina, responsabile sindacale degli studenti medi del Veneto, ha illustrato gli sconfortanti dati raccolti in questi mesi e ha annunciato l'intenzione di rivolgersi all'assessore regionale Chisso per riuscire a trovare una soluzione ai numerosi problemi riscontrati. Vogliamo innanzitutto lanciare dei tavoli in tutte le province con gli enti competenti, con gli enti locali, con le aziende per cercare di trovare assieme una soluzione a questi disagi. Per cercare di trovare delle proposte, nonostante i tagli che ci sono stati da parte della regione e i varienti, dobbiamo trovare comunque delle proposte per migliorare il servizio. Chi studia a Venezia molto spesso abita in terraferma e trovare le coincidenze con gli autobus è ormai un fatto solo di fortuna, più che di organizzazione. Il caso più eclatante riguarda uno studente di San Donà che ha impiegato 5 ore per tornare a casa dalla scuola che frequenta Venezia. La proposta degli studenti è quella di dare inizio in ogni provincia a dei dibattiti per cercare di conciliare l'esigenza di chi va a scuola con le possibilità delle aziende di trasporto. Come ha sottolineato Jacopo Marchesini, il trasporto pubblico dovrebbe essere efficiente perché si tratta di garantire un diritto allo studio, dato che la maggior parte degli studenti non ha altri mezzi che l'autobus per raggiungere la scuola.